Forte preoccupazione per l'esito dell'incontro di ieri al Ministero dello Sviluppo Economico è stata manifestata dal Partito Democratico di Gela. Il segretario Peppe Di Cristina, il presidente Claudio Caizza e il capogruppo consigliare Enzo Cirignotta parlano di un ennesimo scippo di investimenti consumato ai danni della città, con la compiacenza di un'amministrazione comunale assolutamente inadeguata a rappresentare gli interessi della nostra comunità. Il PD ricorda, dopo che il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di alcune associazioni ambientaliste, l'Eni non ha più alibi, proceda immediatamente alla costruzione della piattaforma Prezioso K. Risultato? Eni taglia proprio quell'investimento. Per il PD, ancora una volta, il cane a sé zampe, sfruttando la debolezza di un'amministrazione che rappresenta se stessa, ha letteralmente stravolto il protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014. Protocollo, che seppur criticato, prevedeva investimenti imponenti per il nostro territorio. Secondo noi, ieri al Mise si è consumato l'ennesimo scippo di investimenti e danni della nostra città, con la compiacenza di un'amministrazione comunale che ormai, l'abbiamo capito tutti, non è in grado di tutelare l'interesse del nostro territorio. Si era detto che dopo il rigetto del ricorso del Consiglio di Stato da parte di alcune associazioni ambientaliste, l'Eni non aveva più scuse per realizzare quell'intervento, che ricordiamo la costruzione del Prezioso K. Ecco che allora domani e ieri l'Eni taglia proprio quell'investimento, o meno 800 milioni di euro che vengono a mancare alla nostra città. Ma quello che a noi fa rabbia è che, come è stato possibile che l'amministrazione comunale, di fronte a questa rinuncia di investimenti, non ha detto niente, in questi 15 metri, tutti questi viaggi a Roma, andati e ritorno da Roma, che hanno pesato tantissimo sulle casse comunali, cosa sono andati a fare? Cosa sono andati a contrattare? Ma questi soldi, gli investimenti, promessi in merito al protocollo del 6 novembre 2014, arriveranno? Ma ad oggi quindi il 40% del protocollo non c'è più. Quindi con questo annuncio di Ene il protocollo del 6 novembre 2014 è stato svuotato. Faranno un'impianto a terra, ma è tutta una pagina da scrivere, quello dell'impianto a terra. E quindi ritengo che in questo momento la città, il Consiglio comunale, debba prendere per mano questa situazione, in quanto questa giunta comunale ha dimostrato di non avere l'autorevolezza per andarsi a sedere a tavoli ministeriali e trattare alla pari con Ene e Governo nazionale. Infatti già chiederemo nei prossimi giorni la convocazione di un Consiglio comunale straordinario per trattare il tema della riduzione degli investimenti di Ene sul nostro territorio. Grazie.